Capitano Acciaio sbarca a Lucca in aiuto dei cittadini lucchesi a scoprire i vantaggi della differenziata e del riciclo. Il comune di Lucca è stato premiato per l'impegno nella raccolta degli imballaggi in acciaio. Alla premiazione erano presenti Federico Fusari, direttore del consorzio Ricrea, Valentina Simi, assessore all'ambiente e sistema ambiente. Lucca è la terza tappa del nuovo viaggio itinerante. Soprattutto attraverso l'esempio pratico di quello che si riesce ad ottenere dal riciclo dei nostri imballaggi che sono fondamentalmente scatole per alimenti ma anche aerosolo oppure fusti di dimensioni maggiori attraverso il cui riciclo possono essere ottenuti migliaia di prodotti differenti. Bene, grazie a questa esemplificazione pratica il cittadino sarà più motivato a svolgere quell'attività che presuppone un piccolo sacrificio di separazione dei propri rifiuti in casa che darà origine a quel ciclo virtuoso che permetterà poi l'avviare il riciclo di tutti i materiali. I piccoli cittadini lucchesi possono venire a trovare Capitan Acciaio nello stand che si trova in zona San Concordio a Lucca dove possono trovare il laboratorio di riuso creativo Ricrea il tuo giocattolo dove potranno realizzare piccoli lavoretti utilizzando imballaggi in acciaio. Cittadini lucchesi, mi raccomando, facciamo a Modino!